evoluzionismo il tramonto di una ipotesi di gianandrea de antonellis in occasione del bicentenario della nascita di darwin e a centocinquant'anni dalla prima pubblicazione dell'origine delle specie alcuni autorevoli studiosi di diverse appartenenze culturali e disciplinari si sono confrontati presso il cnr sulla fortuna delle teorie darwiniane non limitandosi ad una generica celebrazione bensì mettendone in luce gli aspetti critici e dai loro contributi è nato il libro evoluzionismo il tramonto di un'ipotesi a cura di roberto de mattei già vicepresidente del consiglio nazionale delle ricerche l'istituzione che ha promosso il convegno e la pubblicazione degli atti da queste pagine l'evoluzionismo emerge come una teoria scientifica e filosofica due aspetti che si sostengono a vicenda incapace però di rispondere ad alcune questioni basilari riguardanti l'origine della vita e il mistero dell'esistenza umana secondo gli autori del volume inoltre l'evoluzionismo appare come una cosmogonia che pretende di descrivere la storia del mondo partendo da postulati scientifici inverificabili una dottrina spesso imposta come un dogma che invece dovrebbe essere sottoposta al rigoroso vaglio della critica nazionale e scientifica attraverso un libero confronto tra gli studiosi se le varie relazioni sono di carattere strettamente scientifico e possono apparire pesanti l'introduzione spiega esattamente come la questione non sia semplicemente un tema da scienziati lontano dalla quotidianità ma come abbia importanti conseguenze di tipo religioso nato come un movimento di rifiuto della creazione spiega roberto de mattei l'evoluzionismo è un insieme composto da una ipotesi scientifica più propriamente definibile come teoria dell'evoluzione e da un sistema filosofico che possiamo definire evoluzionismo in senso stretto teoria scientifica e teoria filosofica hanno bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere l'ipotesi scientifica che non è mai stata dimostrata si nutre del sistema filosofico la tesi filosofica per giustificarsi si fonda a sua volta sulla presunta teoria scientifica e tra gli evoluzionisti non manca chi ammette il fallimento della teoria scientifica il problema è che invece in campo anti evoluzionista e più precisamente in campo cattolico non manca chi rifiuta l'evoluzionismo filosofico ma accetta sul piano scientifico la teoria dell'evoluzione si tratta prosegue de mattei di un giro mentale analogo a quello di alcuni cattolici che fino al crollo del comunismo rifiutavano l'ateismo marxista ma ne accettavano l'analisi socio economica giudicando la scientifica tali posizioni ieri ed oggi nascono da un complesso di inferiorità nei confronti della cultura laica caratteristico di chi non si sente sicuro delle proprie idee cattoliche